Ah, Ezio. Speravo riuscissi a tornare. Ho bisogno di un consiglio. Ma certo. Di che si tratta? Emilio mi ha messo contro alcuni dei miei stessi uomini. Corruzione e intimidazione, eh? Sì. E non possiamo colpire finché sono tra noi. Sono ancora in giro per il sestiere. A tenerci d'occhio per poi riferire ad Emilio. Ancora per molto, sta certo. E agilità. E agilità. Ehi, non dovresti stare qui. Battene! Giù, subito! Giù, cane! All'occhio deve uccidere chiunque salve. Battene! Giù, subito! La! Addosso! Subito! All'occhio peggio di torri! BMP! solo per voi la bellezza, l'onestà e l'esperienza sono un vero idiota, lo so, non ce l'ho che ci fai qui, scendi subito non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho Grazie. 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 Grazie.